Questa la potete avere gratis. Fantastica! Questa anche. Non riesco a crederci. Questa invece pure! No, non avete capito male. Se volete comprare una seconda casa, Matt Blascio vi svelerà i trucchi per averla gratis. Il mio compito è trovare una casa che possano permettersi, ristrutturarla e far sì che si paghi da sola. La seconda casa non si paga mai. Giovedì alle 21.10 su Fine Living, canale 49. Grazie a tutti.